Buongiorno a tutti i videoascoltatori del canale YouTube d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un interessante saggio pubblicato da Pacini Editore dal titolo Prato, i Pratesi e gli enti assistenziali, ricerche sugli ospedali e sui ceppi tra XII e XV secolo di Alberto Luongo e Paolo Nanni. Sono 232 pagine a 20 euro, quindi un prezzo assolutamente accessibile e io come mia abitudine non perdo tempo in chiacchiere inutili, ma lascio subito la parola ai nostri ospiti, ti ovviamente ringrazio per aver accettato l'invito e per primo interviene il professor Paolo Nanni. Prego professore. Grazie. Prima di tutto vi mostro il libro che esiste, Prato, i Pratesi e gli enti assistenziali, un titolo che può apparire un po' didascalico, ma che in realtà vuole mettere in evidenza il frutto di ricerche che abbiamo realizzato all'interno di un progetto. Il tema della storia ospedaliera è tema ampiamente noto e indagato nell'ambito della medievistica, ma l'occasione che ci ha portato a lavorare insieme, insieme ad Alberto, è stata quella di un progetto di ricerca di interesse nazionale internazionale che aveva come titolo Alle origini del welfare. Dico aveva perché questo progetto si è concluso nel gennaio del 2020, è andato avanti per alcuni anni, ma il titolo esprime l'impegno di ricerca che ha accomunato il gruppo di ricercatori, ovvero ricercare le origini della cultura dell'assistenza e delle pratiche di credito solidale e di solidarietà che hanno avuto una lunga storia fino all'età contemporanea. Da questo punto di vista abbiamo pensato di mettere insieme le nostre ricerche sugli aspetti più politico-istituzionali e su quelli economici e sociali per indagare una realtà come quella di Prato cercando di vederla da tutte le prospettive che ruotano intorno alla storia degli enti assistenziali. Il caso di Prato si è offerto in modo particolarmente interessante perché Prato, lo ascolteremo, è un centro urbano di media grandezza all'interno di una regione come quella della Toscana piena di città e di ospedali, ha alcune caratteristiche particolari legate alle attività, alla nascita dei vari enti assistenziali pratesi, ospedali e ceppi, ha un protagonista un po' particolare come il famoso mercante di Prato Francesco Di Marco Datini e dato questo insieme di fattori ci ha permesso di esaminare nel complesso un sistema di enti assistenziali che era composto dai e quindi si focalizzano nel tempo nei due più grandi ospedali della misericordia e del dolce e di due ceppi, il primo più antico e il secondo creato con il lascito di Francesco Datini. Forse una breve parola, per noi toscani soprattutto dell'area pratese, pistoiese il termine ceppo è abbastanza consueto lo si usa ancora oggi per dire il regalo a Natale si dice fare il ceppo ma questa parola ceppo che è presente anche nella intitolazione del grande ospedale di Pistoia ceppo era fisicamente un ceppo che dopo la predicazione francescana viene utilizzato come raccolta di elemosine frutto di guadagni anche qualcuno forse in sospetto di possibile illecita usura venivano raccolti e ridonati alla comunità attraverso questo meccanismo di redistribuzione che sta un po' all'origine della trama economica dell'attività degli enti assistenziali dunque ospedali e ceppi, ricerche da vari punti di vista e qui lascerei subito la parola ad Alberto per il suo inquadramento proprio più tipico della storia di Prato Sì, grazie, grazie Paolo e grazie Maurizio per l'ospitalità Allora, prima Paolo giustamente diceva che Prato è un centro urbano abbastanza importante della Toscana medievale è sicuramente un centro urbano ma per quanto riguarda la terminologia medievale non è un centro cittadino perché nel Medioevo italiano avevano il titolo di città solamente quei centri urbani appunto che erano sede di diocesi quindi che erano il centro della circoscrizione diocesana di Riferimento Questo non è un dettaglio secondario nel senso che soprattutto nell'Alto Medioevo e in generale grosso modo nei secoli appunto alto medievali anche fino all'undicesimo secolo spesso l'autorità vescovile era stata l'autorità di riferimento anche per quanto riguarda il potere civile temporale sulla città non solo quindi di pertinenza ecclesiastica e religiosa Questo è importante perché spesso i comuni cittadini avrebbero ereditato dal punto di vista istituzionale una concezione per cui il territorio su cui insisteva diocesi doveva in qualche modo anche corrispondere anche se poi non ci fu mai totalmente dappertutto una corrispondenza netta al territorio su cui le istituzioni comunali civiche una volta sviluppate si potevano in qualche modo rivendicare il diritto di giurisdizione Ecco per quanto riguarda Prato, Prato non è appunto un centro dotato di sede vescovile è quello che però in un gergo che i medievisti usano abbastanza di frequente si può chiamare quasi città perché? Perché nonostante appunto non abbia questo carattere di città nel senso medievale del termine ha comunque tutte caratteristiche o molte insomma delle caratteristiche che contraddistinguevano anche le città vere e poche una popolazione abbastanza numerosa la seconda metà del 200 arriva addirittura a superare i 15.000 abitanti siamo intorno ai 18.000 abitanti quindi una dimensione demografica molto importante per quanto riguarda l'Italia non solo ma anche un apparato produttivo abbastanza sviluppato che si concentra in particolare sulla manifattura laniera ha delle istituzioni comunali che si sviluppano appunto nel corso del XIII secolo abbastanza avanzate è in una posizione geografica favorevole perché si trova grosso modo a metà strada tra Pistoia e Firenze per quanto riguarda appunto l'estensione dei contagi di queste due città ma non solo è anche il primo grosso centro che i viaggiatori che provenivano dall'Emilia Romagna si trovavano a incontrare arrivando appunto in Toscana quindi questo fa sì che Prato sviluppi anche una funzione commerciale molto importante un'autonomia politica dunque abbastanza precoce distinta da quella di Pistoia e di Firenze e favorita anche dal fatto che fra undicesimo e dodicesimo secolo Prato diventa il centro di una signoria territoriale importante che è quella dei Conti Alberti all'ombra diciamo di questa signoria una volta che appunto l'esperienza degli Alberti inizia a venire meno ecco che emergono le principali istituzioni del territorio del centro di Prato che sono appunto il comune e dall'altra parte appunto abbiamo detto non c'è il vescovo quindi qual è l'istituzione ecclesiastica di riferimento? è la pieve di Santo Stefano appositura come appunto si chiama in decisamente questo è un po' il quadro il quadro politico ed economico di riferimento fa da contesto alla nascita delle prime esperienze ospedaliere note fra gli ultimi anni dell'undicesimo secolo e il dodicesimo secolo nascono a Prato come in tante altre parti d'Italia le prime esperienze ospedaliere spesso nate dal basso quindi o legate a particolari istituzioni religiose quindi gli entranti nel dovere dell'accoglienza e rispetto a pellegrini gli andanti appunto ho ricordato prima il ruolo particolare all'interno delle vie di comunicazione della zona di Prato oppure legate anche a fondazioni laiche cioè di laici che decidevano di investire alcune somme o alcuni lasciti all'interno dei loro testamenti in fondazioni di questo tipo ora nelle altre nelle esperienze più propriamente cittadine queste esperienze più o meno spontanee spesso venivano in qualche modo inizialmente a trovarsi sotto il coordinamento della locale diocesi a Prato appunto una diocesi non c'è e quindi inizialmente vediamo che è la prepositura di Santo Stefano a puntare tra il dodicesimo e tredicesimo secolo di porsi come vertice di coordinamento per queste esperienze ma parallelamente sono le nascenti istituzioni comunali che ben presto si incaricano incaricano tentano di assumere questo ruolo e questo si può vedere in maniera molto chiara a partire dalla metà del tredicesimo secolo quando vediamo che il principale ospedale di Prato dell'epoca cioè l'ospedale della misericordia passa nel giro di un paio d'anni da una gestione legata alla prepositura di Santo Stefano a invece una direzione da parte di rettori nominati direttamente dal comune in quel momento inizia un distacco della sfera assistenziale dal mondo diciamo delle istituzioni ecclesiastiche in direzione di una laicità non va intesa in senso moderno come un qualcosa di completamente slegato da una dimensione religiosa ma in senso medievale vuol dire semplicemente che la gestione degli enti assistenziali di Prato non si trova più in mano alle istituzioni ecclesiastiche ma passa appunto nella sfera di pertinenza delle istituzioni civiche comunali il fatto che appunto questo non voglia dire un straniarsi dalla dimensione religiosa lo dimostra il fatto che attanto alle istituzioni comunali o meglio lo dimostra il fatto che le istituzioni comunali intercettano un altro fermento di natura religiosa diverso dalle istituzioni ecclesiastiche tradizionali per lo sviluppo della spiritualità mendicante gli ordini mendicanti sono una delle grandi novità del XIII secolo tra l'altro a Prato si insediano abbastanza presto pochissimi anni dopo la morte di Francesco D'Assisi e quindi in particolare i minori cioè i francescani ma poi via via anche tutte le altre esperienze mendicanti troveranno nel comune di Prato una felice sponda nel promuovere e nel inserire alcune esperienze di assistenza legate alla nuova mentalità mendicante soprattutto mi riferisco al ceppo vecchio che nasce proprio nell'ambito di quello che è il terzo ordine francescano cioè il versante diciamo laico dell'esperienza dell'esperienza di Francesco e che viene molto presto sottoposto alla gestione del comune nel corso fra due e trecento il comune consolida questa sua presa sul mondo assistenziale tanto che appunto sono tre diciamo gli ospedali o meglio gli enti assistenziali principali sotto la gestione del comune cioè la misericordia, l'ospedale del dolce e appunto il ceppo vecchio chiamato vecchio in contrapposizione poi al ceppo nuovo di Francesco Marco Datini e anche le altre esperienze nella insomma nel solco della tradizione precedente nasceranno di tipo assistenziale avranno comunque vita breve perché verranno presto inglobate all'interno di questo sistema che ha questi tre elementi come vertici principali quindi quando alla fine del trecento Francesco Di Marco Datini inizia diciamo il suo progetto di fondare un ente assistenziale trova nella sua città d'origine un contesto in cui l'attenzione da parte dell'intera comunità e delle istituzioni al settore, all'assistenza è consolidata ma su Francesco Di Marco Datini lascio di nuovo la parola a Paolo che è uno dei migliori conoscitori dell'argomento Grazie Alberto Questo contesto che Alberto ci ha dato è molto importante perché tutte le scelte operate da uomini da comunità si spiegano sempre nel loro contesto e in fondo come scriveva Brodel ogni storico deve avere un suo territorio una città d'elezione un suo osservatorio privilegiato perfettamente conosciuto a partire dal quale egli vede meglio cerca di vedere i destini del mondo allora il lavorare su un caso particolare offre sempre la possibilità di questo maggior approfondimento interrogandolo però interrogando quel particolare che cerchiamo di che mettiamo sotto gli occhi della nostra ricerca interrogandolo con domande di carattere generale cosa sono che impatto che rilevanza avevano nel contesto sociale gli enti assistenziali che cos'è che spingeva sosteneva direi questa sorta di meccanismo di redistribuzione per cui gli enti assistenziali trovavano le loro basi economiche erano alimentati finanziati da donazioni che venivano poi sfruttate realizzando proprietà terriere che con le loro produzioni e inserendo nel mercato i prodotti derivanti dalle produzioni agricole a sua volta finanziavano le attività degli enti assistenziali ora che cos'è che costruiva questo legame che giustificava queste donazioni fino a renderle una pratica così diffusa e comune nel Medioevo il caso di Francesco Datini si presta in modo molto particolare per indagare questi aspetti Francesco Datini è universalmente conosciuto come il mercante di Prato sappiamo delle sue origini direi umili era figlio di un venditore al mercato quasi tutta la famiglia viene falcidiata dalla peste nera del 1348 e Francesco intorno al 1350 parte alla volta di Avignone al seguito di mercanti fiorentini dove rimarrà per circa 30 anni ritornando nella sua patria di origine nel 1382 diventato ricco Francesco Ricco era soprannominato nella sua terra d'origine ma al contrario di quanto leggiamo nei trattati di mercatura quattrocenteschi anziché andare in pensione passatemi questo termine Francesco ormai aveva era la soglia dei 50 anni in grosso modo anziché ritirarsi o trasformare i suoi beni in beni i suoi beni economici in beni patrimoniali dà invece avvio alla costruzione del suo sistema di aziende molto particolare ampiamente studiato da Federico Melis che era una sorta di holding company in cui la sede la compagnia fiorentina era proprietaria della maggioranza del capitale di tutte le altre compagnie in modo tale da creare un sistema anche più capace di resistere a eventuali crisi o possibilità di fallimenti questa è l'originalità della holding company creata da Francesco Datini che aveva la compagnia principale a Firenze c'era poi naturalmente la compagnia di Avignone quella di Pisa si apre poi quella di Genova da cui partono alcuni dei suoi soci per andare a fondare la compagnia in divisa della Catalogna come lui la chiamava con tre sedi Valenza Mallorca Barcellona bene questa esplosione di attività che per le vicende tutte particolari un po' della personalità di Francesco Datini che è stato in qualche modo il primo archivista di se stesso perché lui alla fine di ogni esercizio si faceva rimandare tutte le carte in cui erano dei libri di azienda comprese anche le lettere scambiate quindi noi abbiamo le lettere spedite anche da Datini tutta questa documentazione che poi per vicende un po' fortuite si è conservata ed è arrivata fino a noi ci dà un archivio sterminato considerate che solo le lettere conservate nel fondo Datini sono oltre 160.000 naturalmente che comprendono tutta la trama di carteggi delle compagnie tanto da essere fonte per la storia economica o più in generale anche per la storia sociale a seconda di come le si interroga di come le si si formulano domande di ricerca sono una fonte incredibile per la storia di tutta l'Europa e di tutte le reti commerciali in cui le attività del Datini e delle sue compagnie erano inseriti di Francesco abbiamo diciamo un migliaio di lettere scritte da lui non dall'insieme dei compagni soci eccetera che ci permettono note sono quelle gli scambi di lettere con la moglie quando lui stava a Firenze e lei a Prato o viceversa note altrettanto sono quelle con il notaio amico Lapo Mazzei ma molte altre ce ne sono soprattutto nella parte di carteggio definito privato che riguardano anche gli scambi epistolari quasi lettere scritte personalmente ai soci dove la personalità del Datini emerge con più chiarezza in fondo se facciamo possiamo fare una piccola analogia non è detto che nelle lettere di vita domestica alla moglie emergano tutti i tratti dell'attività e della tempra del mercante nel pieno della sua attività con i soci sì è più facile no bene indagando attraverso eh tutto questo sistema di tipologie di carteggi in qualche modo possiamo ricostruire più da vicino la personalità di questo mercante che al termine della sua vita nel 1410 ma per la verità fin da dieci anni prima in occasione della ondata di peste a Firenze del 1400 che è seconda solo a quella del 48 comincia a maturare le sue idee circa il testamento in una prima fase sappiamo che intendeva destinare i suoi averi eh al grande ospedale di Firenze di Santa Maria Nuova oppure lasciarli eh ad altri destinatari forse fu lo stesso Lapo Mazzei a mettergli la pulce nell'orecchio circa che cosa ma guarda che se lascia scusate se ne parlo un po' così da pratese ma eh seguendo le osservazioni che Alberto ci ha dato lasciare ad altri enti voleva dire legati al mondo ecclesiastico voleva dire finire sotto il vescovo di Pistoia altri enti erano fiorentini quindi della città dominante nasce così l'idea di creare un nuovo sceppo nel 1410 la stesura definitiva del eh del testamento prevede la destinazione dell'insieme dei suoi beni compreso il palazzo alla costituzione di questo ceppo pepoveri di Cristo di Francesco Datini fatto sulla falsariga dell'altro ceppo apro le virgolette anzi meglio chiuse le virgolette per citare una nota del testamento in cui Datini dimostra eh per l'ennesima volta la sua tempra bene ora naturalmente questo atto può essere interpretato nel contesto delle consuetudini del tempo le abitudini dei mercanti dalle ricostruzioni biografiche quelle più lontane o il famoso libro dell'Airis Origo un po' l'impressione che abbiamo di questo gesto può apparire come un po' quel gesto un po' ipocrita dei mercanti che dopo aver mercanteggiato tutta la vita di beni materiali mercanteggiano anche il paradiso con il Padre Eterno con il loro testamento ora quasi una sorta di ser ciappelletto in carne ed ossa ser ciappelletto peraltro pratese notaio pratese bene le ricostruzioni le interpretazioni sappiamo che sono sempre aperte ma il caso del Datini è un po' particolare perché abbiamo la sua viva voce attraverso quelle lettere che ci permettono di ricostruire una personalità e anche un po' la genesi di certe idee allora perché questo gesto è un modo con cui Datini mira la salvezza dell'anima certamente è una spiegazione assolutamente plausibile riconducibile nel contesto dell'epoca intende con questo gesto lasciare una memoria tangibile nella sua patria d'origine lui che non aveva eredi non aveva figli e perciò si pone il problema a chi lasciare il suo patrimonio allora questo gesto è un modo di realizzare una sorta di ambizione per una costruzione della sua memoria dopo la morte può essere anche questo è una spiegazione assolutamente plausibile documentabile oppure c'era in lui dentro queste riflessioni anche il senso del peso della rilevanza che ha l'imprenditorialità in una lettera lui scrive ai soci ma se io io non avevo bisogno di fare la torre di babele sarei stato e legarmi a voi soci con tutte le compagnie che mi fate diventare matto potevo farmi gli affari miei ma ho ho realizzato tutto questo per fare del bene agli altri a cui dare per Dio a cui dare per guadagno allora questo gesto si inscrive in una sensibilità per le attività economiche per le attività imprenditoriali come realizzazione di progetti di bene l'imprenditorialità in fondo non ha soltanto una misurabilità economica finanziaria ma anche il senso di qualcosa che ricade nella società che ha un impatto sociale che attiva processi significativi nell'ambito del loro contesto bene la immagine che abbiamo messo nella copertina del libro riporta la l'iconografia di Prato che vedete al centro con gli edifici caratterizzanti evidenti in evidenza ma come vedete è quasi sostenuta da un duplice colonnato con i santi protettori Santo Stefano e San Giovanni Battista Santo Stefano Prato San Giovanni Battista Firenze e una sorta di contrafforte due mercanti l'uno è il mercante Michele Michele Dagomari che dona alla città di Prato la scintola quella reliquia che costituiva elemento identitario della Prato del tempo l'altro è Francesco Datini che dona a Prato il ceppo forse qui lo vedete proprio questo tronco d'albero allora questi due gesti di donazione diventano al tempo stesso fattori identitari di Prato dunque le motivazioni possiamo riflettere interpretarle in tutte le loro dimensioni ma c'è un fatto assolutamente documentabile che con questa donazione data l'entità del patrimonio di Datini il totale dei della ricchezza degli enti assistenziali pratesi raddoppia da solo Datini faceva il totale di misericordia dolce ceppo vecchio dando dunque un peso economico patrimoniale agli enti assistenziali pratesi assolutamente fuori misura rispetto alla media di tutte le altre città toscane Firenze gli ospedali di Firenze erano naturalmente più ricchi ma in una città estremamente più popolata e estremamente più ricca la proporzione di Prato è questo che dà un po' il suo la sua anomalia e il suo interesse ma qui lascio di nuovo la parola Alberto per andare avanti su questa riflessione perché questo forte intreccio tra dimensione assistenziale e dimensione civica è un qualcosa che come hai detto giustamente trova una sua tappa importantissima fondamentale decisiva nell'esperienza del Datini e poi nella fondazione del Cepo Nuovo ma che anche in questo caso ha dei precedenti intanto cosa vuol dire gestione comunale di enti assistenziali in poche parole vuol dire che il comune dal diciamo grosso modo dalla seconda metà del 200 in poi inizia a nominare i vertici i rettori di questi ospedali inizia ad elaborare una serie di norme volte a facilitare l'attività di questi enti quindi esenzioni fiscali per esempio quindi agevolazioni di carattere juridico che appunto aiutassero questi enti a conservare il proprio patrimonio di fronte a eventuali contestazioni di terzi in generale è un processo che fa sì che patrimonio immobiliare ma in generale le donazioni sulla base delle quali questi enti si reggevano vengano assimilate a beni comunali questo è importante perché man mano che andiamo avanti nel corso del 200 e poi soprattutto nel 300 la situazione politica in Toscana cambia vediamo l'emergere sempre più forte di Firenze come città leader non solo nel proprio territorio ma anche appunto a livello regionale anche la stessa Pistoia dall'altra parte non dimentiamoci che Prato teoricamente è in diocesi di Pistoia preme diciamo così per affermare i suoi diritti teorici su quelli che sono gli enti assistenziali come dicevo prima è normale altrove che queste realtà vengano gestite anche se non in certi casi esclusivamente dalla diocesi ecco è un contesto in cui l'attaccarsi di Prato alla gestione dei propri enti assistenziali e del patrimonio dei propri enti assistenziali diventa un elemento che in qualche modo può rappresentare il mantenimento di una propria identità civica e che in effetti continua anche dopo che Prato entra nello stato fiorentino prima nell'immagine che ha fatto vedere Paolo si vede anche San Giovanni Battista perché siamo in un contesto in cui Prato è già entrata a partire dal 1351 nello stato fiorentino però ed è questo il punto nonostante questa sottomissione la gestione degli ospedali viene difesa con le unghie e con i denti sia da eventuali intromissioni fiorentine spesso uomini di Firenze si fanno nominare magari dalle autorità ecclesiastiche se non dal Papa rettori di alcuni ospedali pratesi ma in quel momento interviene il comune di Prato dicendo che non spetta alle istituzioni ecclesiastiche nominare questi vertici ma spetta al comune con processi un altro importante è quello del 1375 in cui Pistoia vuole far valere i suoi diritti ed è interessante perché i testimoni di questo processo abbiamo ci sono giunte le testimonianze che poi danno ragione fondamentalmente a Prato puntano su che cosa sulla consuetudine e dicono tra l'altro sono tutti impiegati della diocesi di Pistoia dicono sì noi nei libri della diocesi nei libri fiscali troviamo gli ospedali pratesi quindi teoricamente dovrebbero pagare le imposte alla diocesi ma troviamo anche che non l'hanno mai fatto per una consuetudine che dura da decenni se non da un secolo questo non risulta e quindi insomma l'importanza della consuetudine nel diritto medievale è nota e quindi questo fa sì che quella sentenza sia favorevole a Prato e dichiari senza mezzi termini che gli ospedali e gli enti assistenziali di Prato sono privati e sono profani e sono propri del comune non sono in tutte parole enti ecclesiastici se questo quindi è un forte elemento di identità civica e in alcune fonti si dice proprio che da contro gli ospedali di Prato da contro la comunità di Prato oppure un malfunzionamento degli ospedali viene indicato nelle fonti come una vergogna per la città per tutta la città ecco che questo però può comportare anche diciamo lo stimolo di intenzioni meno onorevoli ed è quello che sembra essere avvenuto grosso modo nei primi decenni del Quattrocento perché come dicevo prima comunque questi enti gestiscono vasti patrimoni e quindi è molto come dire molto facile che alcune famiglie magari più in vista e più potenti politicamente di Prato possano approfittare dei loro agganci del loro potere per piazzare propri esponenti o membri amici al vertice di queste istituzioni e gestirle in qualche modo per il proprio tornaconto giocando appunto sulle proprie influenze all'interno delle istituzioni comunali è interessante perché questa situazione fa sì che a metà del Quattrocento si venga insomma diciamo una sorta di resa dei conti nel senso che si susseguono rapidamente pre-grosse riforme che appunto sono dovute al fatto che da una parte Firenze e dall'altra un commissario apostolico Giovanni da Napoli denunciano abusi nella gestione di questi di questi enti e quindi queste riforme in realtà ed è questo secondo me il punto interessante non fanno altro che ripristinare determinate consuetudini gestionali e determinati come dire determinate ormai tradizioni perché appunto la gestione comunale è data dalla fine del duecento che evidentemente erano tenute meno ma il modello è ancora quello precedente quindi si ribadisce un maggiore controllo su quelle che erano in realtà le buone pratiche gestionali la direzione appunto del controllo dei conti il controllo delle magistrature di vertice sempre però in mano al comune di Prato nonostante quella stagione di riforme fosse stata l'occasione da parte di Firenze e dei poteri legati diciamo alle istituzioni ecclesiastiche di voler come dire sottrarre al comune le prerogative che da così tanto tempo aveva in mente questo è diciamo un aspetto secondo me importante che ci fa capire come l'assistenza a Prato godesse di un ruolo civico fortissimo e qui forse Paolo può dire qualche parola sì mi proseguendo questa linea di riflessione credo che sia più chiaro quello che un po' ha mosso il nostro interesse cioè osservare un caso particolare attraverso il quale cercare di mettere alla prova le ricostruzioni più generali delle varie dimensioni della della storia assistenziale Alberto ha sottolineato questa dimensione civile civica di identità potrei aggiungere come altro elemento di riflessione diciamo l'impatto l'impatto sociale ed economico che la presenza degli enti assistenziali ha avuto a Prato questo questa riflessione in un certo senso ci richiama anche a elementi di attualità ho citato prima il titolo del nostro progetto alle origini del welfare titolo un po' provocatorio perché naturalmente quando noi oggi parliamo di welfare o di welfare state ne parliamo con categorie riflessioni strutture che appartengono alla storia recente tuttavia lo studio della storia non avviene mai lontano dalle esperienze che viviamo o dalla evoluzione storica o anche da le sollecitazioni che l'esperienza presente ci porta a vivere sembra talmente evidente oggi di fronte a una condizione di bisogno che mai avremmo immaginato di tornare a sperimentare come quella di una pandemia della emergenza di svariate forme di bisogno anche nascoste l'emergenza di nuovi poveri di nuove forme di bisogno che si annidano laddove meno ci aspettiamo allora lavorare studiare attraverso questi casi particolari su come si è strutturata che impatto ha avuto queste forme di solidarietà alle origini è stata questa un po' delle linee di ricerca che abbiamo condiviso mi faccio solo alcune osservazioni quasi telegrafiche abbiamo detto del loro ruolo civile e della loro importanza economica nella storiografia si parla ormai ampiamente di imprese della carità ma talvolta intendendo con questo termine imprese sì ma non troppo perché non perseguono finalità di profitto come se l'unico nota qualificante di un'impresa fosse il profitto mentre c'è un esito una capacità di progettualità che è tipica dell'attività imprenditoriale anche se il fine è un progetto di interesse collettivo che riguarda l'intero corpo sociale allora quali elementi possiamo sottolineare prima di tutto un aspetto che direi che non è che è da considerare con attenzione cosa facevano gli enti assistenziali gli ospedali tipicamente accoglievano i malati ma in realtà svolgevano una ampia tipologia di interventi anche in risposta a bisogni di chi non era malato c'era una famiglia ospedaliera la casa la famiglia di casa in cui venivano ospitate anche persone in condizioni di bisogno non perché si erano rotti la gamba ha rotto un arto eccetera i ceppi attraverso le loro elemosine che cosa facevano tipicamente facevano distribuzioni di pane distribuzione di pane ai poveri ai poveri pubblici ai prigioni agli ordini mendicanti di Prato prevalentemente francescani e domenicani quindi questa diciamo era l'attività ordinaria ma la cosa interessante è che esaminando i libri di entrata e uscita dei quattro enti insieme noi troviamo anche una serie di interventi ad persona quasi risposte puntuali a bisogni individuali che intervenivano per in un momento di difficoltà in un momento contingente legato non lo so alla nascita di un parto gemellare un parto gemellare poteva mandare in crisi l'economia domestica di una famiglia povera dunque una serie di interventi ad persona senza contare che questo termine di ceppo per i poveri sia quello vecchio sia quello nuovo era poi declinato nelle formule canoniche del tempo poveri segreti pubblici e vergognosi e vergognosi poveri pubblici erano quelli che andavano a prendere il pane nelle distribuzioni settimanali i poveri vergognosi erano gli impoveriti che si vergognavano di un passo indietro nel loro livello di vita nel loro stile di vita poveri segreti quelli conosciuti dai rettori che deliberavano un intervento specifico allora qui si apre di fronte ai nostri occhi una carrellata di storie di poveri attraverso la forma con cui i rettori deliberavano di intervenire che dunque era anche legittimazione di quel bisogno faccio un esempio su tutti torna nella famiglia dell'ospedale della misericordia tale Nastasia che era cresciuta nell'ospedale una fanciulla abbandonata si sposa e dopo pochi anni torna all'ospedale e il rettore scrive l'abbiamo ricevuta perché il marito le fa mala signoria cosa significa questa mala signoria noi non lo sappiamo in concreto la picchiava la trattava male la vessava non lo sappiamo in concreto ma sappiamo che i rettori riconoscono questo modo del marito di trattare una delle figlie dell'ospedale come qualcosa che legittima un intervento quindi quel bisogno è riconosciuto qui si concretizza quella funzione dell'ospedale che dà legittimità alle forme di bisogno ai poveri legittimità di appartenenza al corpo sociale in fondo il colpo di genio della storia assistenziale è proprio questo aver deciso passatemi il termine che la città il corpo sociale si salvava nel suo insieme non poteva essere lasciato da parte una parte consistente di questo corpo allora qui possiamo fare un nesso con riflessioni estremamente attuali i premi Nobel dell'economia del 2019 Banerjee e Duflo avevano scritto qualche anno prima un libro intitolato l'economia dei poveri nei quali prendevano le distanze da chi sostiene gli aiuti generalizzati per i paesi poveri come la soluzione della povertà ma prendevano anche le distanze da quanti invece considerano la carità queste forme di solidarietà come qualcosa che uccide perché uccide l'intrapresa uccide l'iniziativa allora tra queste due opposte teorie i premi Nobel che poi sono diventati i premi Nobel hanno preso le distanze dicendo va bene andiamo a vedere come vivono i poveri andiamo a vedere la loro economia perché pensare i poveri come privi di razionalità è un modo di fare economia di basso livello perché anche i poveri hanno una loro razionalità con cui gestiscono il poco che hanno per la loro sopravvivenza bene allora l'attività e nella nella loro trattazione il Nobel lo hanno vinto proprio non tanto per le soluzioni ai problemi della povertà ma per i metodi di indagine e di analisi del problema andando cioè a vedere quali sono gli atti gli interventi che attivano processi di miglioramento bene se noi osserviamo la vita degli enti assistenziali vediamo in qualche modo qualcosa di simile non c'è una risposta omologata sì ci sono delle attività ordinarie ma al tempo stesso un intervento starei quasi per dire personalizzato per intervenire nel contesto specifico del bisogno e attivare o rendere almeno un po' più facile quello che altrimenti sarebbe impossibile bene allora questa impresa della carità si dimostra non soltanto nella organizzazione gestione delle risorse per avere le basi economiche per svolgere l'attività ma anche in queste forme di intervento che alla luce delle attuali riflessioni si dimostrano ci dimostrano forse un medioevo meno buio di quanto spesso si viene ricordato così genericamente e che abbiamo sentito ampiamente in questo ultimo anno non vorremmo mica tornare al medioevo di fronte a una pandemia e bene al di là degli slogan eccetera la storia come sempre succede si dimostra molto più interessante più viva e vivace quando la studiamo che non quando la scipiamo così un po' con stereotipi consolidati nel tempo bene Alberto direi che questa conclusione del professor Paolo Nani è esattamente quello a cui pensavo anch'io cioè un medioevo che è ancora tanto da insegnarci sì decisamente in questo e in tanti altri campi certo e quindi io vi ringrazio tantissimo per per aver presentato questo volume di cui ricordo ancora una volta il titolo Prato i pratesi e gli enti assistenziali ricerche sugli ospedali e sui ceppi tra dodicesimo e quindicesimo secolo pubblicato da Pacini editore di Alberto Luongo e Paolo Nanni che sono stati i nostri ospiti 232 pagine per 20 euro quindi ripeto un prezzo che vale la pena per andare a scoprire nel dettaglio di una cittadina del tutto particolare il peso e il significato dell'assistenza degli enti assistenziali ricordo ancora a tutti i nostri ascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito www.italiamedievale.org e spero che un giorno o l'altro ci riusciremo a fare queste presentazioni in presenza perché come si diceva prima non inonda questo strumento telematico è benvenuto ma non può sostituire un incontro con il pubblico in sala così come non può mancare un pubblico a un concerto o una partita di calcio grazie ancora grazie buon proseguimento per i vostri studi e le vostre ricerche spero di rivedervi presto con qualcosa di nuovo grazie 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 ancora grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti